Nel caldo di quest'ora a Roma dal nostro Matteo Parlato che si trova davanti al liceo Visconti, proprio qui a Roma. Matteo, dovrebbe essere tutto finito quasi? Vedo che qualcuno accanto a te resiste insieme a te. Esatto, eroicamente. Dopo la prova dell'esame, Paolo Carloni è stato così gentile a rimanere con noi per raccontarci, tanto per cominciare, che tracce hai seguito? Allora, io socio economico, la crisi e i giovani, insomma, con quattro fonti diverse ho croccato qualcosa. Senti, tu sei uscito fra gli ultimi, eri nervoso, hai copiato in bella copia, in bella calligrafia, com'hai ci messo così tanto? Allora, sì, sono riuscito a copiare, insomma, a fare la bella copia e devo dire che, insomma, le sei ore sono passate più velocemente di quanto credessi, pensavo che durasse di più, invece, quando stai là tra l'indecisione della traccia, insomma, il tempo vola. Senti, vabbè, oggi c'era la prova all'italiano che va bene, domani greco e domani si copia. Greco, il doppio cellulare è di regola, ovviamente, si spera anche nella clemenza, nella bontà della professoressa di Greco, qualche aiutino non fa mai male e poi, che Dio ce la mandi buona, insomma. Ultimissima domanda, con questo esame finisce la scuola, rimpianti? Rimpianti? Rimpianti no, anzi, se dovessi riscegliere, risceglierei questa scuola, questo indirizzo, mi sono divertito molto, gli amici tutti ottimi, insomma, lo rifarei mille volte. Bene, allora, la piazza del collegio domani, dimmi, dimmi, dimmi. No, diglielo, non mi ricordo il suo nome, insomma, comunque, che ha croccato qualcosa di italiano, ma croccare è un'arte, ne sappiamo qualcosa anche noi, Matteo, vero? Poi glielo spiegherai, glielo insegnerai. Grazie, grazie Matteo. Prego, arrivederci. Grazie.